Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Situazioni in Campo. Io sono Giuliano e oggi parleremo del maes che ormai è pronto la trebbiatura, domani andrò a trebbiare, e della soglia di secondo raccolto che anche lei fra 20 giorni circa si andrà a trebbiare e non ve ne ho mai parlato, quindi anche lì faremo una sorta di cronostoria di entrambe le coltivazioni. Ma prima, sigla! Ragazzi, sto registrando questo episodio il 22 di settembre, ormai è autunno, lui fa fatica a seccarsi, sinonimo sì di vigoria, però bisogna cercare di raccoglierlo prima delle piogge. Vi dico che all'inizio settembre aveva 35% di umidità, appunto faceva al test di umidità, e adesso che siamo al 22 di settembre fa fatica arrivare al 25% di umidità. Infatti attenderò ancora un giorno o due e andrò a trebbiare. Ma in questo episodio, oltre a parlarvi della soglia di secondo raccolto, che lo farò fra un po' e di tutte le altre coltivazioni, voglio fare una sorta di cronostoria raccontandovi tutte le operazioni svolte all'interno di questo maes. Sfruttando le tonnellate di riprese fatte durante il corso dell'anno e il modulo satellite di Xfarm. Adesso il modulo satellite lo sfrutterò per raccontarvi come si è comportato il maes, come ho trattato il maes all'interno dell'annata. Ma a me, in specifico, è servito per mantenere una vigoria del maes sempre alto. Infatti cosa fa questo modulo satellite che potete utilizzare tutti e vi lascio il link in descrizione? Non fa altro che fare una foto ogni tre giorni ai nostri campi e non fa una semplice foto aerea da cui posso andare a vedere dall'alto le mie coltivazioni. No, fa una cosa molto più specifica. Sfrutta queste foto per fare delle analisi in base a certi indici, tipo per esempio l'indice di vigoria, il satellite analizza tutto il campo e ci mostra tramite una colorimetria, per esempio rosso campo in cattivo stato, verde campo in buono stato, appunto ci mostra la situazione dei nostri campi, a portata praticamente di smartphone o comunque di computer. Nel mio caso è molto semplice andare a vedere i campi, a parte il centro, però insomma sono tutti attaccati a casa. Ma penso a un agricoltore che magari ha i campi un po' disseminati sul territorio, che può trovare ancora più vantaggi di me in questo modulo satellite, perché può andare a controllare i campi, vedere se ci sono stress di azoto, stress idrici e così via, perché appunto ci sono un sacco di indici, un sacco di leggende, insomma la vigoria, lo stress d'azoto, eccetera, eccetera. In ogni caso ragazzi, appunto in questo video vedrete i vari indici e ve li racconterò, vi farò vedere un po' di immagini, come funziona questo satellite che io ho sfruttato molto appunto per non far diciamo soffrire la mia coltivazione, ma voi lo potete provare, infatti in descrizione vi lascio il link dell'app Xfarm, la scaricate, vi registrate, inserite i vostri campi tramite un semplice tracciamento e se siete interessati a modulo satellite, basta chiedere ai ragazzi di Xfarm, ve lo attivano e l'indice di vigoria, quindi l'indice base, è disponibile gratuitamente. È un buon indice, veramente ragazzi l'ho utilizzato molto perché vi dà una idea generale della situazione del campo. Poi ci sono tanti altri indici all'interno della versione pro dell'app, ma intanto ragazzi cominciate a guardare un po' i vostri campi con l'indice di vigoria, quindi l'indice base. Allora, cominciamo con questa storia riguardo al mais, dobbiamo andare un po' veloce perché vi devo raccontare anche delle altre coltivazioni e della soia di secondo, andrò adesso abbastanza spedito e veloce. Allora, come ho preparato i terreni per seminare il mio mais? Beh, molto semplice, ormai chi è attivo da tanto tempo sul canale sa la solita pratica, quindi terreno sodo, poi passo col coltivatore rabe, che appunto ha un'ancora a zampadoca, vado a pareggiare e raffinare il terreno con un erpice a denti fissi vecchissimo e poi un doppio rullo Cambridge per cercare di sminuzzare tutti i ciottoli e alla fine, dopo un po' di passaggi, viene un buon risultato. Perché faccio così? Perché non utilizzo l'erpice rotante, eccetera? Perché sono in minore lavorazione e molti di voi lo sapranno. In ogni caso avete tutte le caratteristiche, diciamo, di quel periodo nei primi episodi di situazioni in campo. Vi racconto della varietà, di come ho preparato il terreno e così via. Parlando di semina, appunto, ho seminato il giorno 15 aprile. Subito sono intervenuto con un diserbo preemergenza per prevenire tutti i problemi date dagli infestanti e circa il 20 aprile ho fatto la prima irrigazione. Fortunatamente dopo questa prima irrigazione, per farlo nascere, è piovuto. Maggio, diciamo, che è stato d'aiuto dopo una primavera molto siccitosa e sono arrivato fino al primo di giugno. Lì ho sarchiato e concimato. E ragazzi, adesso appunto vi farò vedere le immagini satellitari dell'indice di stress d'azoto. Lì c'è stato un balzo. Se ben vi ricordate, vi ho detto nello scorso episodio che abbiamo fatto un balzo, era esploso come vigoria. E infatti si può vedere che da, diciamo, un mais basso, un po' bruttino, carrente d'azoto, in circa 15 giorni, che è il tempo che impiega la pianta per assimilare il concime, circa, dopo dipende dal tipo di concime, vedete appunto che in 15 giorni è letteralmente esploso. È partito e da lì sono partite tutte le varie operazioni, ovvero il 15 di giugno il trattamento contro il ragno rosso, appunto in lotta biologica, quindi con la distribuzione degli insetti, l'irrigazione del 17 giugno e del primo di luglio. E poi finalmente ha fatto, almeno da me, un metà luglio, ha fatto, anzi, quasi tutto luglio, con un po' di pioggia e quindi sono riuscito ad andare avanti. Ovviamente io per irrigare andavo a vedere sulla mia applicazione Satelliti a vedere come si trovava, in che situazione si trovava il mais. E appena calava un po' la vigoria intervenivo subito con l'irrigatore. Questo appunto per non far soffrire la pianta e tenere sempre una vigoria al massimo per cercare poi di ottimizzare la produzione finale. Infatti sono molto curioso, vedremo cosa succederà, vi racconterò ovviamente nel prossimo episodio di Situazioni in Campo delle produzioni di soia, mais e soia di secondo raccolto, che uscirà alla fine di ottobre. Comunque in luglio è stato un periodo abbastanza tranquillo come irrigazioni e abbiamo distribuito sempre in lotta biologica gli insetti per contrastare la piralide. Era un po' titubante, se ricordate nello scorso episodio avevo detto che, insomma, c'erano un po' di danni ed effettivamente ad agosto circa è venuto un forte temporale senza acqua, insomma, ha fatto un forte vento quindi e si sono viste un bel po', appunto passeranno le riprese, si sono viste un bel po' di piante spezzate, perché probabilmente l'insetto ha rovinato la pianta, ha fatto i suoi danni, ha indebolito la pianta e quindi appena è arrivato un po' di vento si è spezzata subito. Non ci sono state tante pannocchie per terra, per fortuna, però sicuramente ci sono un po' di pannocchie mangiate e quindi sì, insomma, ho visto dei risultati migliori col chimico, però, insomma, ragazzi, come avevo detto l'altra volta, i vantaggi di un trattamento in lotta biologica sono tanti, non si fancareggiate, si rispetta l'ambiente e poi stiamo andando verso un periodo a livello legislativo molto complicato sul trattamento del mais e quindi attenzione, ragazzi, date un'occhiata appunto alle novità a riguardo. Dopo questo luglio apparentemente tranquillo siamo arrivati ad agosto in cui ha fatto un caldo, ragazzi, soprattutto verso Ferragosto è stato impressionante, picchi di 38-40 gradi, le coltivazioni soffrono perché ok, bello il caldo, eccetera, puoi anche irrigare, però la coltivazione soffre in ogni caso anche con presenza di acqua perché in certe fasi della giornata, tipo a mezzogiorno, il caldo è veramente eccessivo, poi raggiunge il suo picco verso le 17, ragazzi, è stato impegnativo, due irrigazioni e lì proprio ha sofferto, sono dovuto andare a vedere su Satelliti, oddio, come è messa la coltivazione, eccetera, ma sono riuscito a, diciamo, mantenerla bella vigorosa. Sicuramente poteva essere un'annata più fresca, il mais ne avrebbe giovato in ogni caso, irrigazioni o meno. Con l'ultima irrigazione del 20 d'agosto ho detto stop al mais, ho detto perfetto, sei arrivato, diciamo, a maturazione massima, adesso comincia a seccarti che il mese prossimo ti trebbiamo e appunto è arrivato a settembre, le piante si stanno seccando, con l'indice di vigoria di Satellite appunto vedrete che pian pianino la coltivazione matura e quindi il colore diventa sempre più rosso perché tende a essere sempre meno vigoroso, sempre più secco e quindi da Satellite viene visualizzato sempre più rosso e diciamo non è super preciso ragazzi perché bisogna sempre andare a sgranare le pannocchie e vedere a che umidità si trova, si presenta il mais e prima andarlo a trabbiare. Però insomma già da Satellite guardate un po' le foto, man mano che diventa rossa l'immagine vuol dire che sta maturando sempre più secco e quindi potete anche farvi un'idea molto generale dello stadio di maturazione del mais o comunque delle vostre coltivazioni. Bene, questo è stato il mais, vi aggiornerò con le produzioni, è stata sicuramente un'annata impegnativa il mio primo anno di mais dopo tanto è stato impegnativo, speriamo dia soddisfazioni e poi ovviamente cominciate già a raccontarmi nei commenti come stanno andando le vostre produzioni insomma so che molti di voi hanno già arrabbiato, il mio è un Crasse 600 ragazzi, non un 700 però devo ancora trabbiarlo, vedremo, vi aggiornerò ovviamente. Adesso possiamo passare ad altro. Soia di primo raccolto che è stata irrigata tanto quanto il mais, forse l'ultima irrigazione del 20 di agosto si poteva evitare, ma ho visto che stava riempiendo ancora gli ultimi baccelli in punta e ho detto ma sì, il rigo che così non è in stress e riempie anche quei baccelli. Infatti ragazzi, mamma mia ha riempito veramente bene, ci sono piante in certe zone maestose, cariche di baccelli staremo a vedere. Anche lei seminata come il mais, vi ho detto, quindi 15 di aprile per molti presto, per me è giusto, per certi, non lo so, insomma ragazzi io faccio così e mi trovo bene, ognuno a casa propria è libero di fare quello che vuole anche lei comunque ha avuto il suo trattamento in lotta biologica per il ragno rosso che ha aiutato molto e ha fatto molto effetto e adesso appunto siamo al 22 di settembre probabilmente andrò a trebbiarla fra circa dieci giorni e sia col drone ma anche appunto da satellite, come vi sto parlando prima della maturazione, si vedono delle zone rosse e lì appunto insomma vi farò vedere anche col drone che ci sono zone dove la soia è bruciata sono zone strane perché non sono zone marginali, sono proprio zone centrali al campo deduco forse che sia stata un'abbondanza di acqua, magari ovviamente è un'ipotesi abbondanza di acqua che ha fatto chiudere il ciclo prima a questa soia perché la soia appunto vai a vederla in questa zona molto bruciata che vedrete da immagini è sana con tutti i suoi baccelli però è molto molto piovante rispetto alle diciamo altre piante nel contorno del campo non lo so staremo a vedere comunque varietà nav 555 vi saprò dire le produzioni poi andiamo avanti con l'erba medica ragazzi mi fate sempre un sacco di domande sull'erba medica non ve la faccio mai vedere voi sempre domande sull'erba medica a parte gli scherzi continua la serie The Italian Farmer regala l'erba medica siamo arrivati alla quarta stagione ovviamente sto scherzando siamo arrivati appunto al quarto taglio e ragazzi mi soffermerò su questa cosa molto poco ma udite udite sono riuscito a filmare lo sfalcio appunto ho beccato il momento giusto ho fatto due tre riprese solo dello sfalcio il signore che viene a raccoglierla va molto con calma ma io non ho fretta ragazzi è sua praticamente c'è il regalo che faccia quello che vuole adesso avete visto anche lo sfalcio sarete contenti di questa cosa adesso vedremo come gestircela il prossimo anno però non lo so e comunque molti di voi diranno ma perché non hai seminato questo o quell'altro da seme è un'area efa ragazzi fare soia per me è difficile perché ho il problema dell'amaranto e della califa fare pisello proteico è una perdita di soldi come altre coltivazioni magari da reddito sono perdite di soldi perché è molto difficile farle in efa e quindi piuttosto metto una miglioratrice che mi dura tre anni non gli faccio praticamente niente e così via insomma la scelta è stata questa piuttosto che rimetterci i soldi lascio il terreno lì faccio contento qualcuno e migliora il terreno piano piano anno per anno e insomma stava diventando un po scura questa ripresa perché appunto adesso le giornate appunto sono in autunno si sono allungate e l'autunno si fa sentire pure sulle riprese comunque arriviamo in chiusura del video alla situazione soia di secondo raccolto come l'ho preparata questo giro potete trovare tutti i video sul canale che vi lascerò in alto a destra nel corso delle riprese successive ovvero dopo colza ho macinato gli stocchi ho passato il mio coltivatore rabe poi una dischiera fornita da maschio di asparto in prova di cui uscirà presto la recensione e sono riuscito ad affinare il terreno in maniera ottima da lì ho deciso dato che faceva molto caldo e non si decideva a piovere ho deciso di seminare la soia in terfila 15 centimetri quindi con la seminatrice da grano in sostanza e non quella classica seminatrice di precisione a 75 o 45 come ho seminato la soia di primo raccolto perché ho deciso di seminare a un'interfila così stretta per cercare di chiudere fila prima cosa vuol dire che la pianta crescendo fa ombra sul terreno con le proprie foglie in meno tempo perché ha meno area da coprire e quindi fa molto più veloce che è seminata a 45 centimetri insomma capite che una pianta deve coprire 45 centimetri ci impiega non so un mese a coprire 15 centimetri ci impiega due settimane 20 giorni circa e appunto è stata fatta questa scelta per il gran caldo per conservare un po l'umidità del terreno bene c'è stato solo un piccolo problema che ho deciso di chiamare il terzista con la mitica macchina seminatrice che ha fatto disastri nel pisello proteico e disastri nell'erba medica non mi ero dimenticato di questi problemi se ben ricordate l'erba medica era stata seminata a una dose sbagliata con dei punti in cui ce n'era poca eccetera perché penso che la macchina abbia dei difetti non lo so non voglio indagare e purtroppo la macchina questa macchina seminatrice si è fatta sentire anche nella semina della soia con problemi di distribuzione di quantità quindi come quantitativo inoltre si è messo di mezzo anche probabilmente una svista dell'operatore magari il gps aveva sul gps che ha funzionato un po male e ci sono stati dei doppi appunto di raddoppi di passate anche che arrivavano e toccavano i 40 centimetri magari poteva stare più attento l'operatore non lo so però di base ha sbagliato di tanto la guida assistita non chiedetemi il perché comunque insomma le fortune tutte a me ho fatto pure la rima inoltre c'erano delle parti molto molto sabbiose il terreno era molto affinato con la dischiera e quindi avevo detto l'operatore di mettere mezza marcia in più in queste aree per cercare di non affondare troppo il terreno perché ragazzi se seminate troppo fondo non cresce niente non riesce ad emergere la soia e purtroppo non lo so sempre colpa della seminatrice svista l'operatore boh lì la soia si è affondata 10 centimetri non è nata e quindi ci sono molte aree in cui la soia non c'è ragazzi anche qui adesso fra un poi vi dirò tutte le operazioni fatte fino oggi è stata irrigata immediatamente e fa rido per non piangere da satellite indice di vigoria si vedono tutte le aree in cui la soia manca appunto perché il satellite vede del terreno brullo e chiaro e quindi dice ok quasi sono dei problemi di vigoria perché perché mancano le piante molto semplici si vedono proprio le aree perfette di dove non è stata seminata cosa ho fatto dopo le operazioni di preparazione di terreno che ho elencato poco fa beh ho seminato appunto con la seminatrice di cui vi ho appena parlato il giorno 29 giugno poi ho rullato immediatamente per interrare meglio il seme libellare il terreno e agevolare la raccolta poi in caso di baccelli molto radenti al terreno ho irrigato il giorno primo luglio insieme alle altre coltivazioni e dopo la soia pian pianino si sono cominciati a vedere i problemi dove mancava la soia dove c'erano dei raddoppi dove mancava della dose di seme eccetera comunque è nata nel giro circa di una settimana è venuta fuori in maniera non omogenea appunto è germiata in maniera non omogenea temavamo il peggio però dopo ragazzi insomma tutto bene si è ripresa non poco si dice che se si semina bene si è già a metà dell'opera e ragazzi vi posso garantire che è una realtà un buon sesso di impianto garantisce buoni risultati e meno problemi durante il corso dell'anno ovviamente dopo la mia grande felicità visto il risultato di semina chi sono arrivate si lo state per dire le amiche lepri che hanno divorato ragazzi circa mezzo ettaro di roba che attualmente lì proprio ragazzi si sono divertite perché se nel primo raccolto avevano mangiucchiato rovinato e poi la soia si è ripresa c'è un'area che vedrete appunto dalle riprese in cui hanno tenuto praticamente ragazzi rido sempre per non piangere hanno tenuto capitossate le piante di soia proprio allivellate ragazzi meglio che un moratore con la livella e il cemento procedendo anche lei anche questa soia diciamo ha giovato delle piogge di luglio ma qua è arrivato agosto abbiamo irrigato il mais ma anche la soia di secondo quindi 8 agosto 20 agosto e se mi sono fermato con il mais e la soia di primo raccolto con la soia di secondo bisogna continuare e quindi ho effettuato un ulteriore irrigazione il 5 settembre e ragazzi siamo arrivati anche per lei alla fine comincia a perdere un po di vigoria comincia ad ingiallire e penso che per circa metà ottobre barra fino ottobre saremo pronti per la raccolta sempre tempo permettendo speriamo non succeda niente di grave anche sulla soia di primo perché io ho detto tra abbiamo settimana prossima ma mettono pioggia e a proposito di pioggia uscirà qui in questo momento il grafico delle precipitazioni ci eravamo lasciati con precipitazioni molto scarse in agosto e a settembre che non servivano ragazzi almeno a me non servono disturbo non solo appunto le fasi di raccolta perché ormai è già tutto bello che a posto ed irrigato a fine ciclo appunto circa 13 mm niente va bene meglio così speriamo non faccia danni e che sia io che voi possiate raccogliere tutti i vostri raccolti in scioltezza e senza troppi problemi e ragazzi che dire spero che questo episodio vi sia piaciuto è stato lungo ma almeno ho detto tutto quello che c'era da dire non ho tralasciato niente così avete tutte le informazioni scusate solo per il ritardo nel fornirvi queste informazioni mi sarebbe piaciuto fare episodi più corti più spesso ve l'avevo detto ma non sono riuscito ma per queste cose rimpianti eccetera avremo l'ultimo episodio per appunto raccontarvi tutte queste cose aneddoti vari adesso appunto chiudiamo il video che è già diventato fin troppo lungo spero che anche tutte le coperture del video vi siano piaciute queste immagini satellitari che io trovo veramente oltre che utili molto molto interessanti da vedere valutare giudicare eccetera voglio sicuramente approfondire le mie conoscenze in questo ambiente dei satelliti e dell'appunto i vari indici di vigoria eccetera perché secondo me saranno il futuro perlomeno sono molto utili ci si fa un'idea molto più precisa rispetto magari ad anni fa in cui si faceva un'analisi ad occhio con il drone e basta perché io sono sempre girato con il mio drone da quando sono usciti i droni andavo su guardo le mie coltivazioni secondo me così è ancora più comodo e preciso detto questo vi invito a seguirmi su instagram e ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio di situazioni in campo inscriviti al canale Grazie a tutti.